Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo per il fine settimana. Attualmente una blanda perturbazione atlantica sta attraversando la nostra penisola, sta portando qualche nube, anche qualche temporale, specie sul nord-est e al sud Italia. Nel weekend l'anticiclone subtropicale tenderà in tutti i modi di avvolgere la nostra penisola, tuttavia dovrà fare i conti con una massa d'aria fresca e instabile situata sul centro Europa che parzialmente lambirà la nostra penisola. Cosa ne verrà fuori? Avremo un sensibile aumento delle temperature soprattutto sulle regioni tirreniche e le isole maggiori, ma avremo anche dei locali temporali, qualche nube in più, soprattutto sul lato Adriatico e i settori montuosi dell'Apenino e dalle Alpi centro-orientali. Qui avremo qualche temporale, soprattutto nelle ore pomeriane, sia di sabato sia di domenica, ma nel complesso comunque splendere il sole, soprattutto sulle coste e sulle pianure. Come detto, poc'anzi dal punto di vista termico avremo un sensibile aumento termico, mediamente le massime oscilleranno tra i 20 e i 24 gradi, ma localmente, specie in Sardegna, in Sicilia, sulla Pianora Padana occidentale, sulla Toscana, sul Lazio, sulla Campania, avremo locali picchi di 26-27 gradi, qualche grado in meno, solo sulla Pianora Padana orientale, sul lato Adriatico. Grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona e serena giornata.